Altra domanda che c'è online sulla chat, si possono già provare a guardare i vecchi temi d'esame o mancano ancora degli argomenti? Direi che con l'argomento che iniziamo oggi, ovvero gli stream, dovreste essere praticamente a posto, quindi potrebbe esserci qualcosa che magari non riuscite a fare nella maniera ottimale, però praticamente questo è l'ultimo grosso argomento di Java e quindi dovreste avere tutto. Una cosa che faremo poi più avanti, ma in realtà c'è in pochissimi temi d'esame la parte di interfaccia grafica, anche perché questo corso è già abbastanza denso così com'è e quindi la parte di interfaccia grafica è sostanzialmente appena accennato, giusto per darvi i principi, però è una parte che non c'è frequentemente nei temi d'esame, quindi buona parte dei temi d'esame che sono disponibili, dovreste poterli svolgere senza particolari problemi. In realtà li potete svolgere anche senza gli stream, che sono l'argomento che iniziamo oggi, ma alcune cose sono decisamente più facili se utilizzate gli stream. Piccola nota organizzativa, mi scuso per i problemi che ci sono stati con l'estensione del laboratorio sulla dieta, purtroppo non erano stati rivisti correttamente tutti i vari pezzi, quindi il test di esempio che avevate sul vostro repository deve essere aggiornato, io non ho aggiornato direttamente il file sui vostri repository perché se voi l'aveste per caso toccato prima e vi ritrovate un file aggiornato sul repository, ottenete quello che è un conflitto e quindi è un pasticcio. Ho preferito aggiornare la versione master, che è quella che poi vi ho anche linkato sul canale Slack, in modo che voi possiate sostanzialmente fare un'operazione molto di basso livello, ovvero copia e incolla, quindi copiate dal sito web e incollate sul vostro file in modo che abbiate la versione aggiornata. Ecco, l'intestazione che vedete qua è quella che dovreste trovare sulla pagina. Fate un reload se non la vedete perché magari avete tutto in cache. Ok, a questo punto iniziamo a parlare di stream. Vi ho messo ieri una lezione però ripartiamo sostanzialmente dalle cose elementari, quindi se l'avete vista velocemente o se non l'avete ancora vista direi che oggi cerco di darvi i concetti di base in modo che poi voi possiate, se l'avete già vista, capire meglio alcuni dettagli, se non l'avete vista partire da questo e poi andare a vedere la lezione. È la prima di due lezioni sugli stream, la seconda è un po' più approfondita e va a vedere alcuni aspetti più di dettaglio. Sostanzialmente la prima lezione è quella che contiene gli elementi fondamentali utili per fare delle attività di base. Allora io vi ho creato un package e ho messo al suo interno un file con il solito main di prova da cui iniziare a ragionare. Allora che cosa sono gli stream? Gli stream, come dice la parola inglese, sono sostanzialmente un flusso di che cosa? Di qualunque cosa, oggetti, ma in realtà esistono delle versioni specializzate di stream che trattano anche i tipi primitivi. A cosa serve il concetto di stream? Serve perché molto spesso noi quando dobbiamo fare delle elaborazioni di sequenze di dati, dobbiamo andare ad applicare una serie di trasformazioni, operazioni e raggruppamenti su, per l'appunto, i dati uno dopo l'altro. Senza gli stream che cosa faremmo? Noi andremmo a prendere i dati da un file oppure andremo a prendere da un array o da una collezione e andremo a fare un ciclo che per ogni elemento fa qualcos'altro. Il punto è che magari le operazioni devono essere fatte una dopo l'altra, quindi prendo tutti gli elementi, li trasformo e genero un nuovo contenitore in cui vado a mettere i risultati trasformati. Poi applico un'altra operazione, quindi un altro ciclo for. Il rischio è di avere o dei cicli for uno dopo l'altro oppure dei cicli for annidati uno dentro l'altro. Il risultato è un codice che è abbastanza complesso da comprendere e in generale la complessità non si sposa bene con la correttetta. C'è una domanda in chat. C'è un errore quando fate l'update perché sostanzialmente i siti non sono raggiungibili, quindi c'è un problema di connessione di rete. Quindi l'idea è, invece di andare a dover scrivere una serie di cicli uno dopo l'altro o annidati uno dentro l'altro, andiamo a utilizzare gli stream che permettono di scrivere in maniera molto più elegante quello che scriveremo con tanti cicli annidati. Partiamo da il solito nostro esempio che vi avevo messo in data su cui c'erano stati un po' di esempi. Qui c'è un lyrics, andiamo a prendere questa che è in inglese, quindi non ha lettere accentate e non dovrebbe portarci problemi. Quindi vado a creare un array di parole, quindi string quadre, parole uguale, data.lyricks. punto, punto, split e vado a spezzare in corrispondenza di spazi, a capo, punti. Quindi, a questo punto vediamo di fare qualche operazione semplice, vediamo le due varianti, quindi quella con i cicli e quella con gli stream. Allora, osservazione, non si vede bene il mio schermo, vediamo se così forse migliora. Scusate, ma avendo due schermi, incredibile, ma quello che vedo su uno schermo in realtà influenza quello che c'è sull'altro, quindi adesso credo che sia andato a posto. Altra domanda su gli stream, il reale vantaggio può essere che le operazioni terminali fermano le computazioni. Allora, in generale, a parte la leggibilità, c'è il vantaggio che, avendo una descrizione complessiva delle operazioni da fare, è possibile andare a fare delle ottimizzazioni in maniera assolutamente automatica, quindi riusciamo a fare una serie di operazioni in parallelo senza particolari problemi. E in realtà non dobbiamo scrivere a noi. Se noi volessimo andare a scrivere due cicli in parallelo che vanno a elaborare questi dati, dovremmo fare delle operazioni complesse. Vedremo quanto è complesso quando parleremo di thread. Utilizzando gli stream, il parallelismo è automatico e quindi non lo gestiamo noi, viene gestito in automatico. Quindi abbiamo una serie di ottimizzazioni, il parallelismo è probabilmente quello più evidente in termini di prestazioni, che ci permettono di scrivere delle cose molto molto semplici e poi appoggiarci su ottimizzazioni che vengono fatte in maniera assolutamente trasparente. Quindi oltre alla leggibilità e alla sinteticità c'è effettivamente un grosso vantaggio in termini di prestazioni e di ottimizzazioni che stanno dietro. Allora, cosa dobbiamo fare? Immaginiamo di prendere il contenuto di questo array e stamparlo. Usiamo uno stream di string perché è molto facile, quindi non dobbiamo andare a inventarci nulla e vediamo immediatamente l'effetto. Ovviamente uno stream può essere fatto, come vi dicevo prima, con oggetti di qualunque tipo. Immaginiamo di volerlo scrivere e di volerlo stampare, quindi quando faccio un for string p in parole system out print ln p ok? Quindi questo è il modo di andare a stampare delle parole. ok? Quindi abbiamo la nostra stampa che è messa qua. Come vedete gli apici non vengono utilizzati, vengono mostrati perché comunque non vengono utilizzati come, vengono considerati come dei separatori. In realtà quello che potremmo fare per togliere gli apici è andare a mettere anche qui un altro possibile separatore che è quello. Quello che ho scritto qui all'interno della split sostanzialmente è una espressione regolare. Non abbiamo ancora parlato di espressioni regolari, vi pubblicherò una lezione relativa a questo in modo che voi possiate capire un po' meglio che cosa sto scrivendo e come funziona. Per il momento sappiate esclusivamente che le quadre indicano un qualunque carattere tra quelli presenti, quindi sostanzialmente lo spazio, la capo, il punto oppure le virgolette e il più messo qua mi dice che quel separatore può essere ripetuto. Quindi sostanzialmente se io ho due spazi, oppure uno spazio e un a capo, un punto e un a capo, ecco quelli vengono considerati come un unico separatore invece che come due separatori distinti. A questo punto se io vado a eseguire, ecco, vedete che ci troviamo i caratteri. Ci sono ancora delle virgolette da qualche parte, ma più o meno abbiamo ottenuto tutto. Vedete che mettendo le virgolette come separatore, in realtà viene considerato il primo elemento come un elemento di lunghezza nuova. A questo punto abbiamo tanti modi di andare a generare uno stream. Diciamo che quello più semplice fosse utilizzare stream.of passando le parole. Stream deve essere importato. Quindi questo sostanzialmente genera uno stream. Uno degli aspetti interessanti degli stream è che io normalmente ho una elaborazione che è, diciamo così, pigra, differita, si dice lazy. Cosa vuol dire? Vuol dire che io prima vado a costruire lo stream, vado a definire le operazioni da fare e alla fine, quando inizio ad applicare le operazioni, allora a quel punto viene effettuata la vera operazione di elaborazione. Quindi io posso scrivere lo stream e questo semplicemente ha un effetto di dichiarazione, ma non va a eseguire nessuna operazione, non va a estrarre nessun elemento dall'array. Quindi io posso preparare lo stream e l'elaborazione e poi a un certo punto richiamare, diciamo, l'operazione finale che li estrae e questo scatena tutta la parte di elaborazione. Una volta che uno stream io posso fare tante operazioni. L'operazione equivalente a questo ciclo qui è il forice che si attende, come vedete, un consumer, ovvero una implementazione dell'interfaccia funzionale consumer che quindi ha un unico metodo che prende un oggetto e fa qualcosa, quindi lo consuma, non restituisce nulla. Quindi posso fare P, freccia e poi vado a mettere sostanzialmente questo. Quindi vedete che praticamente quello che c'è qua è lo stesso che abbiamo messo qua. Alla fin fine l'operazione che facciamo è esattamente la stessa, quindi andiamo a stampare. Quello che cambia è il contorno che noi andiamo a mettere dentro. Quindi qui invece di dover andare a dire esplicitamente che abbiamo un ciclo for, che abbiamo una variabile di ciclo che si chiama P e quindi utilizzare un blocco di codice con aperta e chiusa graffa, vado semplicemente a utilizzare il metodo forice e vado a passare un oggetto costruito tramite lambda che permette di andare ad eseguire quell'operazione. Come possiamo considerare lo stream? Beh, lo stream in realtà è un oggetto, quindi io qui ve l'ho scritto in un'unica istruzione, ma quello che potremmo fare ve lo riscrivo qua sotto, quindi oppure spezzando possiamo dichiarare scusate uno stream stream ovviamente è un tipo generico come tutti i tipi che ormai abbiamo visto, dobbiamo indicare qual è il tipo degli elementi, qui il tipo degli elementi è uno string, quindi stream di parole è uguale a stream of parole. a questo punto una volta che ho quello stream posso andare a fare tutte le operazioni, ad esempio chiamare il forice attenzione come vi dicevo prima nessuna operazione viene fatta per quella riga, qui usando il forice e quindi dicendo ho bisogno di fare questa operazione scatena le operazioni ovvero l'operazione di estrazione degli elementi dall'array e l'alimentazione del dell'oggetto consumer che si trova dentro il forice quindi è un oggetto abbastanza complesso che contiene tanti elementi attenzione che una volta che io ho sfruttato lo stream di parole questo è esaurito non è che posso scrivere un'altra volta stream di parole eccetera o meglio lo posso scrivere ma alla fine se io faccio una ripetizione del forice quello che ottengo è un illegal state exception lo stream è già stato elaborato e quindi alla fine chiuso quindi una volta che io ho elaborato tutto quello che stava nello stream lo stream è chiuso e quindi non lo posso più utilizzare quindi il compilatore non lo sa e me lo lascia scrivere ma a runtime ottengo che lo stream è già esaurito a questo punto che altre operazioni possiamo fare abbiamo visto in questo esempio specifico come love permette di andare a fare la creazione dello stream a partire da un array però se io avessi una collezione la collezione tutte le collezioni hanno un metodo stream che permette di andare a generare uno stream a partire dagli elementi che contengono e poi abbiamo visto che ho questo che è un'operazione terminale ovvero un'operazione che va a richiedere elementi allo stream e lì elabora e fa qualche operazione questo for each è se volete l'operazione terminale un po' più generica e più semplice che vuol dire per ogni elemento dello stream fai qualcosa oltre alle sorgenti e alle operazioni terminali in mezzo possiamo andare a mettere qualcosa altro quelle che si chiamano delle operazioni intermedie vi avevo presentato nelle slide una serie di esempi di operazioni intermedie che vi richiamo velocemente così ce li abbiamo presenti allora queste sono le operazioni intermedie che non tutte è un esempio di operazioni intermedie abbiamo l'operazione filter abbiamo limit quindi filter semplicemente va a scartare filtrare alcuni elementi limit che sostanzialmente va a prendere soltanto alcuni elementi skip che ne salta alcuni sorted che prende gli elementi e li restituisce ma ordinati distinct che va a scartare i duplicati e map che sostanzialmente fa un'operazione di mappatura quindi prende un elemento che arriva dallo stream lo trasforma in un altro elemento quindi entra un elemento di stringhe esce un scusate entra uno stream di stringhe quindi gli elementi sono delle stringhe esce qualcosa di trasformato che potrebbero essere altre stringhe ma potrebbero essere altri tipi di dati come potete facilmente immaginare queste operazioni di termedie per semplici che siano hanno diversi livelli di complessità ora la filter o il limit sono decisamente semplici la filter che cosa fa? prende un elemento applica il predicato e quindi molto spesso viene definito in termini di una lambda se il risultato della funzione del predicato è vero fa passare l'elemento se il risultato è falso semplicemente lo scarta quindi molto molto semplice è come se all'interno del nostro ciclo for mettessimo un if per andare eventualmente a fare le operazioni più di dettaglio soltanto per gli elementi che soddisfano una certa condizione il limit semplicemente mantiene un conteggio se noi andiamo a vedere sorted questa è un'operazione molto complicata perché se quell'operazione intermedia deve restituire gli elementi ordinati cosa fa? deve sostanzialmente andare a raccogliere tutti gli elementi dello stream fino all'ultimo e poi fare un'operazione di ordinamento o farla in corsa però deve aspettare di aver ricevuto l'ultimo elemento prima di poter far andare a valle un altro elemento perché l'ultimo elemento paradossalmente potrebbe essere il primo secondo l'ordinamento e quindi è un'operazione che richiede del tempo richiede della memoria quindi è un'operazione decisamente complessa l'operazione di distinct è leggermente più semplice ma anche questa richiede della memoria aggiuntiva perché per scattare i duplicati io devo mantenere un elenco di tutti gli elementi che ho già fatto andare avanti quindi sostanzialmente per fare un'operazione di distinct io ho bisogno di andare ad accumulare tutti gli elementi che ho già esaminato ad esempio in un insieme se il prossimo elemento che arriva è già presente nell'insieme viene scartato altrimenti viene fatto passare avanti e viene aggiunto all'interno dell'insieme domanda nella sorted non è obbligatorio il comparatore no infatti qui ho indicato opzionale il comparatore non serve se gli oggetti che stanno dentro lo stream sono ordinabili ovvero hanno il metodo compare to quindi implementano l'interfaccia comparable se non dico nulla sorted viene applicato su quello che è l'ordinamento naturale per quanto riguarda i tipi primitivi i tipi primitivi di nuovo sono implicitamente ordinabili e quindi anche in quel caso non è necessario un comparatore se invece voglio andare a fare un ordinamento strambo che non corrisponde all'ordinamento naturale degli elementi dello stream allora posso andare a mettere il comparatore quindi è un po' come il metodo sort di collections in cui io posso passare una lista e quindi viene fatto l'ordinamento in base all'ordinamento naturale degli elementi della lista oppure passo la lista più il comparatore e allora viene sfruttato il comparatore invece dell'ordinamento naturale infine l'operazione di map giusto per fare una panoramica di quello che abbiamo visto map è di nuovo un'operazione relativamente semplice perché per ogni elemento che arriva viene eseguita la funzione che è passata come parametro viene calcolato il mapping ovvero la corrispondenza dell'elemento e viene passato a valle quell'elemento domanda se ho un tipo primitivo che è un oggetto contenente tre righe e due double secondo quale criterio ordina allora se è un tipo primitivo non è un oggetto i tipi primitivi sono int long double boolean ecc se ho un oggetto come dicevo o implementa un l'interfaccia comparable e allora ha un ordinamento naturale oppure se non ha un ordinamento naturale devo andare a fornire un comparatore quindi l'ordinamento dipende da come è scritto il metodo compare to all'interno del del nostro oggetto della classe del nostro oggetto domanda in che senso mapping non richiede spazio aggiuntivo nel senso che per ogni elemento che arriva viene calcolato il risultato e viene mandato avanti quindi l'operazione di mapping ha bisogno della memoria per svolgere l'operazione ma a parte una volta svolta quell'operazione non deve andare a memorizzare tutti gli elementi come ad esempio fa la distinct la distinct ha bisogno di avere una memoria aggiuntiva che viene mantenuta in cui tiene traccia di tutto quello che è passato la map una volta che è stata eseguita quindi come funzione termina e non ha più bisogno di altra memoria che viene poi utilizzata nelle iterazioni successive vediamo come possiamo andare a utilizzare questi elementi in un caso concreto quindi nel caso delle nostre parole e poi vediamo anche l'alternativa che dovremmo scrivere andando a utilizzare un cicloforo quindi immaginiamo di andare a filtrare le parole che iniziano con volendo utilizzare il nostro stream e ovviamente poi alla fine le stampiamo quindi vado a prendere l'espressione che abbiamo scritto prima quindi faccio lo stream di parole e per ogni elemento lo stampo se io voglio andare a fare un filtraggio qui in mezzo devo andare a mettere un filter dove ho la parola e vado a dire P punto start with a ok fatemi scrivere così almeno lo vediamo nell'output scusate mi sto facendo ho cancellato un pezzo là sopra eccoci adesso ripristinato a questo punto stampo filter così lo vediamo bene nell'output e lancio la mia espressione quindi vedete che il filtro mi dà tutte le parole che iniziano con la maiuscola in alternativa se dovessi scriverlo con un ciclo for dovrei andare a scrivere così e poi if vado sostanzialmente a mettere P starts with a allora faccio questa operazione quindi vedete che quello che mi trovo qua è la stessa cosa che mi ritrovo qua tra l'altro ho utilizzato lo stesso nome di variabile così è più semplice però ho questo filtro quindi l'espressione finale è quella che ritroviamo qua e l'operazione che viene svolta alla fine è questa che ritroviamo qua se volete posso andare a prendere questa quindi ho lo stesso comportamento qual è il vantaggio di questa scrittura è che sostanzialmente se io entro nell'ordine di idee che ho un flusso di elementi che devono essere elaborati prima li filtro e poi li stampo quello che posso fare è fare altre operazioni quindi ad esempio andare vado a recuperarvi la distinct filter più distinct quindi io faccio un filtraggio poi vado a mettere un distinct e ottengo lo stesso risultato di prima però senza i duplicati se dovessi farlo con un ciclo come faccio? come vi dicevo prima ho bisogno di un po' di memoria aggiuntiva che mi permette di capire se quell'elemento è già presente oppure no quindi ho la necessità di andare a mettere un set di string duplicati uguale new diciamo che facciamo un hash set di string vado a importare entrambi a questo punto qui faccio un test per vedere se inizia con fatemi togliere questo codice questi commenti per così è un po' più facile da capire il codice quindi se inizia con la A allora ho fatto il filtraggio vado a vedere se l'elemento è già presente quindi se duplicati punto contains P anzi se not duplicati contains P allora stampo altrimenti non faccio nulla in particolare dopo aver stampato devo fare duplicati punto add P quindi iniziamo a vedere che queste 4 righe molto molto semplici si sono trasformate in 2 4 6 8 9 righe ok avrei potuto compattare le graffe però il codice che vediamo qua rispetto a quello che leggiamo qua è decisamente più semplice e mi dice sostanzialmente i passi che devo fare prendo le parole ok prendo le parole seleziono quelle che iniziano per A scarto i duplicati le stampo il set che comunque c'è nascosto dentro il district io qui non lo vedo vedo semplicemente scarti duplicati ok domanda se avessi una matrice e volessi lavorare sulle celle si fa uno stream annidato oppure si considera una matrice allora dipende come vuoi lavorare sulla matrice se vuoi lavorare sulle singole celle farai uno stream delle singole celle se vuoi lavorare per righe avrai uno stream di righe e poi all'interno dell'elaborazione puoi andare a prendere la riga e volendo fare uno stream annidato per quanto riguarda le collezioni le collezioni normalmente hanno uno stream che contiene gli elementi della collezione stessa quindi da quel punto di vista lì non c'è non c'è dubbio domanda alla lunga non si crea un grosso overhead dovendo creare gli oggetti intermedi attenzione tutto questo crea dell'overhead ma in realtà l'overhead che vado a generare con questo distinct ce l'ho esattamente anche in quest'altro caso e non ho degli elementi intermedi ok se io dovessi fare più operazioni concatenate con dei cicli sì che ho degli oggetti intermedi qua non ho dei contenitori intermedi quindi non ho delle collezioni che vengono memorizzate quindi la filter non va a crearmi un oggetto lista ad esempio in cui mette tutto quello che ha creato e poi questa lista viene passata a distinct il bello degli stream è proprio che evita di andare a creare delle collezioni intermedie cosa che invece potrei essere tentato di fare quando inizio ad avere tante operazioni annidate allora intendevo il predicate allora il predicate sì è un oggetto aggiuntivo ma ne viene creato uno ok io creo un unico oggetto di tipo predicate e lo passo l'overhead c'è parzialmente perché invece di fare un if p.start se vogliamo andare a fare una analogia a quella ve lo faccio qua dove ho il semplicemente il filter lo stream fa qualcosa di simile a questo quindi ho un predicate di string filtro uguale a questo il predicate ovviamente deve essere importato e poi qui invece di fare p.start fa if usate filtro punto test p quindi non è tanto l'oggetto che io creo ce n'è uno solo è il fatto che qui viene fatta una chiamata mentre invece qui vado direttamente a operare sulla stringa quello potenzialmente mi può generare un po' di overhead il fatto di avere degli oggetti in più tendenzialmente non più di tanto allora altra domanda nella filter quindi siamo qua scrivere p freccia p di 0 uguale a sarebbe scorretto allora no non posso scrivere p freccia p di 0 uguale a per diversi motivi 1 perché p è una stringa è esattamente come se scrivessi qua invece di p starts with a ve lo commento un attimo e ve lo scrivo qua è come se scrivessi qua if p di 0 uguale a allora non posso scrivere questo perché sostanzialmente quello è una stringa e non è un array di caratteri altro problema se anche fosse un array di caratteri non posso confrontarlo con una stringa ma dovrei confrontarlo con un carattere volendo quello che posso fare è fare un p punto char at di 0 e poi fare uguale uguale a ecco questo lo posso fare attenzione che però starts with è un po' più potente rispetto a fare un confronto di un unico carattere perché starts with io l'ho fatto con un unico carattere ma potrebbe essere fatto con una sottostringa cosa che invece col char at non riesco a fare perché il char appunto va a recuperare un unico carattere in quella posizione quindi non posso scrivere questo ok ma potrei scrivere questo questo no ma potrei andare a scrivere p freccia p charrette di 0 uguale uguale a domanda con lo stream si scandisce tutto tre volte o si esegue le operazioni solo quando c'è un terminatore come vi dicevo prima gli stream sono lazy quindi praticamente io potrei scrivere semplicemente questa parte dell'espressione quindi creazione dello stream filter e distinct e lo stream non farebbe nulla nel momento in cui io vado a chiamare sullo stream un'operazione terminale allora viene effettivamente fatto un ciclo quindi non c'è una tripla scansione ma c'è una scansione unica che chiama quindi sostanzialmente è come facessi un'operazione di pool quindi è l'operazione terminale che tira gli elementi quindi il for each va a chiedere al distinct l'elemento il distinct va a chiedere l'elemento al filter il filter va a chiedere l'elemento al of l'of che cosa fa? va semplicemente a pescare un elemento dopo l'altro all'interno dell'array che è quello di partente soprattutto un altro aspetto interessante è che queste varie operazioni quindi la richiesta del for each a distinct distinct filter e filter of possono essere fatte contemporaneamente cioè quello che si chiama una pipeline quindi mentre il for each sta elaborando un elemento quindi sta facendo la stampa nel frattempo può chiedere a distinct un altro elemento e mentre il distinct va a verificare se l'elemento è già presente all'interno dell'insieme dei duplicati può aspettare da filter il prossimo elemento su cui fare l'operazione e filter mentre sta facendo l'operazione di filtraggio può nel frattempo aspettare l'elemento che arriva da off quindi tutte queste operazioni la produzione dell'elemento dall'array il filtraggio lo scarto di duplicati e il for each possono essere fatte contemporaneamente ovviamente non sullo stesso elemento ma su elementi consecutivi domanda in chat invece sorted blocca tutto esattamente invece sorted blocca tutto perché finché non ho visto tutti gli elementi non so qual è il primo il più piccolo quindi per chi fa corsi di calcolatori quindi sa come qual è il concetto di pipeline all'interno di una CPU ci sono delle operazioni delle CPU che sostanzialmente mandano all'aria la pipeline ecco la sorted è quella operazione che manda all'aria la pipeline fatta su uno stream perché implicitamente ha bisogno di vedere tutti gli elementi per cui è chiaro che se noi vogliamo andare a fare un'operazione di sort dobbiamo farla il più avanti possibile in modo che tutte le operazioni precedenti possano essere svolte con il massimo grado di parallelismo allora domanda come vengono salvati gli oggetti nello stream ad esempio delle collezioni abbiamo un nome della collezione e la sua relativa implementazione qui invece abbiamo soltanto l'oggetto stream i dati come vengono memorizzati allora nello stream i dati vi do la risposta semplice poi è un po' più complicato di così ma iniziamo a ragionare in questi termini in uno stream i dati non vengono memorizzati i dati vengono fatti elaborati a ogni passaggio quindi l'operazione di distinct semplicemente non va a memorizzare i dati se non per la parte di duplicati ma semplicemente prende un elemento decide se è un duplicato se è un duplicato lo passa avanti quindi non c'è un'operazione di memorizzazione c'è un'operazione di uno stadio dopo l'altro di elaborazione e gli elementi passano da uno all'altro quindi ogni elemento ogni stadio di elaborazione si vede arrivare gli elementi un dopo l'altro fa quello che deve fare e passa avanti l'unico che non passa avanti è il for each che sostanzialmente invece consuma gli elementi e quindi dovete vederli come una serie di blocchetti uno dopo l'altro in cui io inizio a mettere gli elementi da una parte e questi man mano vanno avanti uno dopo l'altro e alla fine vengono pescati quindi in realtà è l'operazione terminale che li tira uno dopo l'altro il tutto è fatto in modo di in modo da evitare per l'appunto memorizzazioni intermedie scritture esplicite di for e soprattutto per fare soltanto le operazioni necessarie un altro esempio parto di nuovo da questo di operazioni intermedia è il limite il limite che cosa fa? va a limitare il numero di elementi che vengono elaborati per cui se io vado qui come prima operazione a fare un limite di 10 cosa vuol dire? vuol dire che vado in pratica a prendere solo le prime 10 ovviamente le operazioni successive quindi il filtro il distinct e poi il for each con la stampa verranno svolti soltanto su quelle prime 10 parole quindi il risultato scusate allora qui ho un index out of bound ah ecco perché sostanzialmente allora l'errore è qua perché è possibile allora ci sono delle delle alcune parole che hanno lunghezza 0 quindi se io vado a prendere il carattere in posizione 0 ovviamente ho un errore ok mentre invece lo start with opera tranquillamente anche se la stringa P ha lunghezza nulla se io faccio un filter più distinct più limite in realtà faccio limite più filter più distinct perché il limite lo faccio lo vediamo qua lo faccio prima il risultato è nulla perché è nullo perché evidentemente tra le prime 10 parole non c'è nessuna che inizia con la A quello che posso fare è invece ad esempio togliere il limite di qua e andarlo a mettere qui e quindi vado a prendere le prime 3 parole che iniziano con la dopo aver eliminato i duplicati in questo caso and, all e a se invece di mettere 3 metto 2 ne prenderò soltanto 2 se dovessi fare questo con un ciclo ovviamente avrei bisogno di un variabile qua aggiuntiva che mi tenga traccia di quanti elementi ho elaborato quindi quanti ho stampato una volta che li ho stampati tutti salto fuori quindi volendo scrivere con un ciclo con un ciclo vuol dire che ho un int contatore uguale a 0 allora duplicati in realtà l'abbiamo già dichiarata prima ne creo soltanto una nuova se non abbiamo l'elemento che cosa faccio vado qui a vedere vado a stamparlo e poi se più più contatore è uguale a 2 allora faccio un break quindi salto fuori dal ciclo 4 in questo caso ho praticamente lo stesso tipo di comportamento quindi andando a stampare and all e and all quindi stampato due volte uno con lo stream l'altro col ciclo quindi vedete che io riesco a fare esattamente le stesse cose non è che gli stream mi diano la possibilità di fare delle operazioni nuove e impossibili da fare altrimenti quello che mi danno è un nuovo paradigma quindi un nuovo modo di ragionare quindi invece di andare a scrivere un ciclo che itera sugli elementi vado a ragionare come i miei dati che fluiscono in uno stream questo stream può essere elaborato quindi posso mettere su questo stream una serie di operazioni intermedie che fanno delle trasformazioni e poi alla fine ho un qualcosa che è quello che consuma tutti gli elementi dello stream che è il for each che nel caso specifico va semplicemente a stampare domanda si possono mettere più filtri o più limite per uno stesso stream? sì in realtà io posso mettere tutte le operazioni che voglio in qualunque ordine attenzione l'ordine con cui faccio le operazioni e le operazioni che metto poi hanno un certo significato per cui è chiaro che se io metto un limit qua oppure lo metto qua prima del filter ottengo due risultati abbastanza diversi ok ma questo credo che sia ovvio per tutti quindi posso mettere tante operazioni e tante operazioni intermedie quante voglio e quante mi servono ok a questo punto un'altra delle operazioni intermedie che vi volevo far vedere è l'operazione di map tutte le operazioni che abbiamo visto finora sostanzialmente non cambiano non toccano gli elementi l'operazione del filter cosa fa ne scarta qualcuno ma non li modifica sono sempre quelli l'operazione di distinct di nuovo ne scarta qualcuno scarta i duplicati ma non le modifica il limite di nuovo ne prende un certo numero e il forice semplicemente li consuma gli elementi non vengono minimamente cambiati quello che invece io posso fare utilizzando l'altra operazione intermedia che abbiamo visto prima e la riporto qua che non abbiamo ancora visto ed è la map ok non abbiamo neanche visto sort però sostanzialmente magari lo vediamo dopo è abbastanza facile da capire cosa fa l'altra operazione intermedia che possiamo andare a utilizzare è l'operazione di map andiamo a vedere il nostro codice e andiamo a come al solito prendere quello che abbiamo visto prima lo ricopiamo qua sotto così non ci riscriviamo tutto quindi operazione di map vogliamo fare togliamo il limite che tutto sommato ci toglie soltanto gli elementi abbiamo il filtraggio abbiamo il distinct e poi possiamo andare a fare un'operazione di map ad esempio andando a mettere in maiuscolo tutto in maiuscolo tutto in minuscolo le parole che abbiamo incontrato per cui preso una parola vado a fare p.to uppercase tra l'altro visto che in questo caso specifico scusate è un metodo molto semplice potrei anche andare a scrivere questo map utilizzando un metodo reference quindi string due punti due punti to uppercase ok queste due scritture sono sostanzialmente equivalenti le lascio tutte e due perché in realtà una volta che ho in maiuscolo se lo ripeto non cambia nulla ok in un caso reale ovviamente metto o una o l'altra il to uppercase è tutto sommato scritto come method reference è un po' più leggibile ok tra l'altro quando io ho p freccia p punto eccetera non capisco che quella è una stringa ok sapendo che starts with è un metodo delle stringhe lo posso fare è facile capirlo andando a vedere che parole in realtà è un array di stringhe lo posso capire andando a vedere che filter è un metodo che viene chiamato su uno stream di stringhe lo posso capire però leggendo il codice senza vedere null'altro che questo frammento non è immediato capire che p è una stringa mentre invece se utilizzo il metodo reference ecco questo tutto sommato mi rende più chiaro che stiamo trattando delle stringhe qui a questo punto il risultato è questo ho esattamente le stesse parole di prima and all e a però sono tutte in maiuscolo in questo caso quindi distinct più map attenzione che l'operazione di mapping non deve necessariamente trasformare una stringa in una stringa io posso avere un'operazione di map che trasforma una stringa in un integer ad esempio per cui se immaginiamo un altro tipo di operazione ovvero stampare la stringhezza delle parole copio l'inizio e vado a fare un'operazione di map domanda non è chiaro cosa fa la map map sostanzialmente prende un elemento e restituisce un qualcos'altro una trasformazione quello che si chiama in inglese un mapping dell'elemento in ingresso quindi arriva una parola esce fuori la parola in maiuscolo quindi trasforma gli elementi in qualcos'altro quindi se fino a questo punto avevo uno stream di stringhe molto semplici dopo ho uno stream di stringhe tutte in maiuscolo mettere un oppure così se poi vedete il codice non vi confondete quindi semplicemente entra un elemento e ne esce uno trasformato nel caso che abbiamo visto prima l'elemento è dello stesso tipo quindi entra una stringa in maiuscolo e minuscolo esce una stringa tutta maiuscola se noi vogliamo andare a calcolare invece la dimensione delle parole quello che posso fare è fare un scusate siamo qua un punto map ho la parola e vado a fare parola punto let dopo di che posso fare il mio solito for each ovviamente a questo punto non la chiamo più p ma la chiamo l perché la lunghezza è la parola prendo le parole calcolo la lunghezza e la stampo domanda a livello di implementazione per semplicità di codice la funzione di mapping devo metterla con il metodo dell'oggetto allora se ho un metodo che posso chiamare sull'oggetto è molto più semplice perché posso scriverlo così in maniera compatta o meglio ancora più compatta utilizzando un metodo reference a volte non è possibile semplicemente avere un metodo che è in grado di fare questa operazione oppure gli oggetti che sto manipolando all'interno dello stream non sono li ho scritti io quindi non posso andare a modificare è ovvio che se io potessi semplicemente fare un'operazione di trasformazione utilizzando un metodo dell'oggetto è più semplice però non è una regola mi permette di scrivere codice un po' più compatto quindi ok lunghezze con il map a questo punto se andiamo a vedere il risultato quello che otteniamo è la lunghezza di tutte le parole del nostro testo della canzone ok vedete che la prima è 0 perché per come abbiamo fatto l'operazione di split quelle virgolette iniziali considerate come separatore separano l'inizio della stringa da nulla e quindi il primo è a lunghezza 0 e gli altri sono a lunghezza di tutte le parole se ci dà fastidio quello 0 possiamo fare un filter L freccia L maggiore di 0 e quindi abbiamo tutte le lunghezze questa volta qua senza lo 0 ovviamente se mi interessa semplicemente avere una statistica su quante sono cioè quali sono le lunghezze delle parole posso fare un'operazione di distinct quindi vado a vedere quanto sono lunghe le parole ecco ovviamente avendo tolto i distinct invece di avere 3 ripetuto un sacco di volte o il 5 ripetuto tante volte o semplicemente questi ovviamente quello che potrei fare è averle ordinate invece di andare ad eliminare i duplicati potrei avere un sorted quindi vado a calcolare le lunghezze e poi le ordino l'ordinamento 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 vi ricordo è sempre crescente ok qualunque ordinamento naturale è sempre crescente se io voglio avere per prime i valori più grandi devo fare un ordinamento inverso in questo caso vedete che abbiamo due parole di lunghezza un 12 due parole di lunghezza 11 quattro parole di lunghezza 10 eccetera è ovvio che le due parole di lunghezza 12 sono la stessa parola sono parole diverse se voglio fare questo quello che posso fare è prima di andare a fare un mapping e di andare a eliminare le parole duplicate quindi vado a prendere tutte le parole senza i duplicati vado a calcolare la relativa lunghezza tolgo quelle che hanno lunghezza 0 e poi le ordino a questo punto io ho una parola di lunghezza 12 una di lunghezza 11 una di lunghezza 10 una di lunghezza 9 quattro parole di lunghezza 8 un certo numero di parole di lunghezza 7 altre di lunghezza 6 eccetera attenzione che l'operazione di mapping sostanzialmente è limitata nel senso che una volta che io ho una stringa e produco la lunghezza mi sono dimenticato la stringa ok quindi non ho modo di andare a recuperare qual era la stringa legata alla lunghezza ok quindi l'operazione di mapping perde informazioni su quello che c'era prima trasforma e quindi vado a fare operazioni sulle valori scusate sulle sugli elementi trasformati se io volessi avere qui oltre alla lunghezza della parola anche la parola stessa ecco devo usare una soluzione un po' più complicata domanda se gli string si possono fare sulle collezioni sì sicuramente se io ho una collezione una lista o quello che volete esiste un metodo che si chiama stream che genera uno stream a partire dalla collezione quindi l'ho fatto su una stringa perché era più comodo perché sono partito da uno split ma si può fare tranquillamente sulle collezioni come posso fare a ordinare in ordine decrescente ve lo scrivo qua sotto quindi io qui adesso ho modificato l'espressione ma se volessi fare un ordinamento decrescente lo faccio qua lo posso fare in tanti modi quello che posso fare qui è andare a mettere un compareto punto scusate compareto non è importato lo importo un attimo ok a questo punto compareto punto reverse order quindi sostanzialmente vado a fare un ordinamento inverso qui sto utilizzando il metodo di metodo statico di compareto per fare un ordinamento inverso ovviamente potrei anche andare a scrivermi io direttamente un comparatore scusate ecco adesso si vede meglio avendo l1 virgola l2 e andando a fare sostanzialmente l2 meno l1 ok qui dico usa l'ordinamento inverso rispetto a quello naturale ok ordinamento inverso quello naturale degli integer attenzione se io non dico nulla abbiamo sempre stream di oggetti quindi l'operazione di map che va a prendere length in realtà va a creare degli elementi tipo integer quindi trasforma uno stream di stringhe fino a questo punto in uscita qua a uno stream di integer domanda stream of che caratteristiche deve avere deve essere iterable allora stream of in realtà ha come parametro come scusate come tipo del parametro t puntini puntini ve lo faccio vedere un attimo qui sulle slide eccolo qua stream of ha come parametro t puntini puntini quindi posso passare o una lista di elementi oppure visto che gli elementi il numero variabile di parametri è equivalente a un array posso passare un array in alternativa posso utilizzare il metodo arrays.stream che è un metodo statico a cui passo un array e mi restituisce uno stream quindi sostanzialmente stream oppure stream.of chiamato su un array sono praticamente equivalenti oppure l'interfaccia collection è un metodo che si chiama stream che posso utilizzare per andare a estrarre uno stream della collezione se io voglio fare un ordinamento di tipo diverso è ovvio che qui posso andare a mettere qui ho messo un comparatore verso other ho scritto un comparatore io esplicitamente oppure posso andare a mettere un comparatore punto comparing e andare a specificare l'oggetto il metodo extractor il key extractor che permette di andare a scegliere in base a quale chiave fare l'ordinamento però non cambia nulla rispetto a quanto abbiamo detto sui comparatori quando parlavamo di collezioni ordinamento su collezione oppure ordinamento su array i comparatori sono sempre quelli vengono utilizzati esclusivamente in maniera leggermente diversa all'interno di un sort invece che chiamare il metodo sort come dovrei fare per avere allora ve lo rilancio di nuovo un attimo tutto se abbiamo l'output finale invece ecco vedete a questo punto l'ordinamento è inverso ok a questo punto diciamo che voglio avere non tutte le ma voglio avere le tre più lunghe tre più lunghe ok se faccio un limit tre vengono prese i primi tre avendo fatto un ordinamento inverso quelli più grandi quindi in questo caso 12, 11 e 10 sono gli elementi con una lunghezza più lunga cosa devo fare per avere qui non esclusivamente il la lunghezza ma bensì anche la parola due soluzioni possibili prima soluzione non faccio l'operazione di map ok faccio il distinct in modo da eliminare le parole faccio un filter andando a mettere p freccia p punto length maggiore di 0 l'ordinamento a questo punto non lo faccio in quel modo ma faccio un compare comparator punto comparing int string scusate qui ho scritto male compare string due punti due punti length quindi vado a utilizzare come comparatore un comparatore di interi che si basa sulla lunghezza delle stringhe quindi ordino in base alla lunghezza delle stringhe in realtà voglio fare un ordinamento inverso quindi devo fare punto reverse e poi faccio limit 3 e a questo punto non ho una lunghezza ma allora posso utilizzare tranquillamente l ma preferisco utilizzare p per le parole l per la lunghezza a questo punto lunghezza stringhe più lunghe e vado ad avere esattamente questo risultato questa lunghezza 12 ovviamente conta anche la virgola perché non abbiamo contato le virgole nei separatori ma diciamo che si tratta di un problema a monte di come abbiamo spezzato il testo del nostro della nostra canzone approaching e watchtower alcune osservazioni su questo codice il filter in termini di efficienza sarebbe meglio metterlo prima ok perché abbiamo detto che il disting comunque deve fare un'operazione più costosa sostanzialmente deve andare a gestire quel insieme per evitare i duplicati quindi è meglio andare a eliminare gli elementi prima piuttosto che fargli fare l'operazione di disting e poi andarli a togliere dopo in questo caso si tratta di un elemento unico quindi la differenza è sostanzialmente ridotta però in generale se io posso andare a scambiarli meglio fare l'operazione di filtraggio prima in modo che le operazioni più costose come il disting o il sorted vengano fatte dopo il disting e il sorted devono essere fatte in quest' ordine ed è quello che mi dà dei grossi vantaggi perché il disting mi elimina i duplicati in maniera tutto sommato abbastanza semplice utilizzando un 7 il sorted viene fatto andando a operare sugli elementi senza i duplicati quindi l'ordinamento non viene fatto su tutte le parole della canzone ma viene fatto esclusivamente su quelle dopo aver rimosso i duplicati quindi è un'operazione decisamente più efficiente attenzione che io potrei anche andare a invertirle e il risultato non cambierebbe cioè prima li ordino poi scarti duplicati l'ordine resta sempre quello e quindi alla fine non cambia nulla però in questo modo andando a fare la distinct elimino un sacco di elementi e l'operazione di sorted che è quella più lenta e che richiede più risorse viene fatta dopo su un elemento su una quantità limitata quello che non posso fare invece è invertire limit con sorted perché il limite si basa proprio sull'andare a prendere gli elementi una volta ordinati e quindi non li posso non posso prima andare a prendere le prime tre parole e poi ordinarle perché non è detto che quelle prime tre siano le più lunghe ok questa era una delle possibili soluzioni probabilmente quella un po' più semplice e ridotta se vogliamo una soluzione invece un po' più generale che non si applica esclusivamente alle stringhe ma si applica anche a altri oggetti quello che posso fare è andare a definire una classe classe str plan che ha due proprietà public final string str public final int plan andiamo a mettere un costruttore str plan string str e int len dis.str uguale str e dis.len uguale a len a questo punto quello che posso fare è questa operazione quindi faccio uno stream vado a eliminare le parole con lunghezza zero poi faccio un'operazione di map che va a prendere una parola fatemelo scrivere in questo modo così è più semplice vado vado a fare p freccia new str len di p quindi vado a creare uno stream di oggetti di questo tipo ok e poi vado a fare allora il distinct in realtà andava fatto prima perché era fatto sulle parole e poi vado a fare punto sorted e vado a ordinare diciamo che a e b che sono i due oggetti tipo strln e vado a fare a punto str punto compare to b punto str quindi vado a fare un ordinamento sugli elementi di tipo stringa che sono contenuti in questa copia anzi in realtà devo fare b compare to a perché voglio fare un ordinamento inverso volendo fare un ordinamento alfabetico oppure se voglio fare un ordinamento per lunghezza che è quello che abbiamo fatto prima ho le mie due coppie stringa e lunghezza e faccio b punto len meno a punto len volendo fare un ordinamento per lunghezza poi faccio un limit di 3 e poi faccio il nostro for each esattamente come prima dove non vado a stampare p ma vado a stampare sl punto len più sl punto st quindi se non ho sbagliato ottengo 12 11 10 quindi la lunghezza e la stringa che cosa ho fatto ho creato una classe che è pensata per andare a tenere non semplicemente la stringa o la lunghezza ma le detiene entrambe a questo punto l'operazione di map che ho messo qua che cosa fa prende la stringa mi va a creare l'oggetto lunghezza ovviamente in questo caso non è che sia così necessario perché comunque dato una stringa io posso comunque sempre ogni volta andare a calcolare la lunghezza il vantaggio è che la calcolo una volta sola e poi utilizzo la lunghezza qui per andare a fare l'ordinamento qui per stampare la lunghezza eccetera quindi rispetto alla soluzione precedente che è quella che vediamo qua sopra in cui volendo avere qua esattamente lo stesso output dovrei fare p punto l'ence più qui questo mi dà lo stesso output qui io chiamo l'ence qui una volta lo chiamo qui un'altra volta lo chiamo qui un'altra volta ok per cui riduco le chiamate al metodo length nel caso della stringa è assolutamente rilevante per cui non cambia nulla però se immaginassimo di avere degli oggetti più complicati in cui il parametro in base a cui vogliamo andare a fare l'ordinamento risulta essere difficile o comunque costoso da calcolare ecco che allora avere un oggetto che si porta dietro oltre all'oggetto anche altri parametri già precalcolati abbiamo la possibilità di andare a calcolare a precalcolare e poi portarci avanti nello stringo domanda si possono utilizzare le bifunction imposte della map no nel senso che la mappa scusate il metodo map vuole una function quindi vuole un oggetto unico e lo trasforma in un altro quindi è proprio un concetto di stream molto molto limitato attenzione tenete presente che l'idea di questi stream di oggetti in cui io faccio una serie di operazioni è stato implementato con queste API in Java quindi questo è il modo standard Java ma ci sono altre interpretazioni diverse in cui è possibile fare delle operazioni leggermente più sofisticate rispetto a quelle che riusciamo a fare con l'API standard Java in particolare un aspetto che qui non abbiamo visto perché non ci è capitato è che le nostre i nostri oggetti di function di comparator eccetera non possono lanciare eccezioni gli stream non sono in grado di gestire delle operazioni che lanciano delle eccezioni anche perché andrebbero a interrompere tutto il meccanismo di pipeline di lazy evaluation e quindi sostanzialmente vietano di andare a utilizzare dei metodi che lanciano le eccezioni mentre invece potrebbe essere utile avere un'eccezione che magari va a interrompere il calcolo dello stream però questo è un limite di questa specifica implementazione dell'API ok sappiate che non è l'unica implementazione ci sono altre implementazioni che possono essere più flessibili e magari possono darvi la possibilità di fare delle operazioni che in questo caso richiedono la definizione di una classe specifica in maniera un po' più semplice sono fuori dal contesto e dallo scopo di questo corso ma sappiate che questo non è l'unico modo di andare a gestire gli stream quindi con questo abbiamo fatto una panoramica di quelle che sono le funzionalità di base del nostro stream un'altra cosa che non abbiamo visto ma adesso ve la richiamo velocemente è che ci sono ovviamente una serie di operazioni terminali ok le operazioni terminali sono diverse noi per il momento abbiamo visto soltanto una ovvero il for each però ad esempio c'è un'operazione terminale che si chiama count che mi dice quanti sono gli elementi che stanno all'interno del nostro stream min e max che mi dicono qual è il il primo e l'ultimo minimo e massimo degli elementi find first e find any che mi vanno a dare il primo elemento find first oppure mi vanno a dare un qualunque elemento la differenza tra i due è particolare nel senso che find first va a prendermi il primo elemento dello stream però nel caso specifico del nostro esempio va a prendere la prima parola find any mi prende un qualunque elemento dello stream voi direte qual è la differenza la differenza sostanzialmente è che find any se andiamo a usare uno stream che magari fa le operazioni in parallelo mi prende uno qualunque degli elementi il primo che arriva immaginiamo di avere operazioni complicate e le prende una qualunque il find first invece vuole proprio il primo elemento di una serie ordinata questi due metodi in più hanno la caratteristica di restituire un optional cosa vuol dire e perché questi ma anche i metodi min e max perché restituiscono un optional perché sostanzialmente dobbiamo sempre ragionare considerando tutti i casi possibili è possibile che lo stream sia vuoto oppure che una qualche operazione precedente ad esempio un filter non abbia fatto passare nessun elemento quindi è possibile che non esista un primo elemento non esista un qualunque elemento non esista un minimo non esista un massimo a questo punto questi che cosa fanno mi restituiscono un optional e quindi mi danno comunque un risultato se io non avessi un optional in presenza di uno stream vuoto questi cosa dovrebbero restituirmi non so null l'idea è che restituendomi un optional mi fanno mi danno un risultato che è uniforme ed è sempre lo stesso sia che lo stream sia vuoto sia che effettivamente lo stream abbia un elemento per questo motivo ad esempio domanda che c'è in chat che differenza c'è tra find first e limit 1 sostanzialmente find first come vi dicevo restituisce un optional e quindi mi dà un risultato comunque nel caso in cui abbia un elemento il limit 1 mi funziona se io ho almeno un elemento l'altra sottile differenza è che find first mi dà esattamente l'elemento mentre invece il limit 1 mi va sostanzialmente a filtrare l'elemento nello stream e quindi il risultato qual è? è il risultato che dopo devo andare a mettere un'operazione terminale l'operazione terminale ovviamente deve essere una di queste può essere un for each in cui vado a fare delle operazioni però magari a me interessa avere l'unico elemento risultato della nostra lunga elaborazione dello stream e fargli delle operazioni complicate memorizzate da qualche parte ad esempio col for each è un pochettino più complicato il for each non mi può andare a salvare un valore all'interno di una variabile perché vi ricordo che le lambda come in realtà tutte le classi anonime devono andare a sfruttare variabili locali che siano final e quindi il for each non può assegnare il risultato dell'elemento che gli arriva perché a quel punto la variabile non sarebbe final tornate sul codice così vediamo le varie differenti ok allora eccoci qua andiamo a ragionare in termini in termini di primo elemento vi riprendo un attimo questo codice che abbiamo messo qua così diciamo che vogliamo andare a prendere la parola più lunga ok la parola più lunga quindi il filter in realtà non me ne frega nulla il distinct sì perché altrimenti il rischio di avere più di una ma in realtà anche questo potrebbe non essere molto utile quello che faccio è a questo punto andare a prendere il find first il risultato è ovviamente un optional di string lunga è optional ovviamente è una classe che devo andare a importare a questo punto ho qui dentro la parola più lunga e posso fare quello che voglio ad esempio fare un system println parola più lunga più lunga appunto get attenzione che quando uso get mi viene generata un'eccezione nel caso in cui non ci sia un elemento quindi se per ipotesi non ci fosse nessuna parola il get mi lancia uno such element exception per cui in generale potrei utilizzare un or else in cui dico nessuna parola trovata domanda dopo aver applicato la find first in uno stream rimane comunque la parola più lunga viene rimossa allora find first è un'operazione terminale quindi a questo punto non c'è nulla lo stream è completamente chiuso per cui se io vado a eseguire questa operazione ovviamente la parola più lunga è business questo l'abbiamo già visto prima vi faccio notare che io questa cosa qua la posso scrivere anche in maniera un po' più compatta ho fatto un sort ma diciamo che non era proprio il massimo è un'esagerazione nel senso che quello che posso fare invece di fare un sort è fare un min andando a prendere il minimo secondo quell'ordinamento oppure evitando di fare il reverse il max in base alla lunghezza per cui se faccio questo ovviamente ottengo esattamente lo stesso risultato di prima che è un po' più corto quindi invece di andare a fare un ordinamento quindi dover andare a memorizzare tutte le cose semplicemente prendo tutti gli elementi vado a calcolare qual è il massimo e lo restituisco quindi in termini di occupazione della memoria il sort ed è molto più pesante del max in termini di elaborazione no nel senso che comunque tanto devo andare a confrontare tutti gli elementi in questo modo ho un risultato è ovvio che mettiamoci nel caso in cui io voglio avere soltanto parole lunghissime e quindi vado a fare qua un filter parola freccia parola punto length no scusate length maggiore di 20 quindi voglio soltanto parole che siano lunghe almeno 20 le altre le considero brevi ecco cosa succede che abbiamo visto che la nostra parola più lunga era lunga 13 caratteri mi pare e quindi questo sostanzialmente ci lascia senza parole nel nostro stream il risultato è che ovviamente nel caso specifico l'ultimo ci dice nessuna parola trovata ok quindi l'uso dell'optional ci permette di andare a gestire anche questo caso vi faccio notare che se invece di fare l'or else come ho fatto io correttamente avessi fatto un get il risultato sarebbe stato un non such element exception ok per cui in generale attenzione quando avete un optional perché significa che effettivamente di dentro potrebbe esserci null e quindi fate attenzione il get voi direte ma perché l'ha messo l'ha messo perché è pensato per essere utilizzato in un contesto come questo if più lunga punto is present allora faccio questa operazione in questo caso allora sì posso utilizzare get perché tanto sono tranquillo che non ci siano lo eseguiamo non mi viene più eseguito perché non è presente nessun elemento all'interno della nostra del nostro optional domande è possibile fare un count senza un distinct dando il criterio come parametro allora il count non ricordo se c'è una variante con parametro in ogni caso è difficile andare a dare un distinct nel senso che posso mettere un filtro e poi un count oppure posso mettere un distinct e poi un count andare a dire count distinct come per dire si può fare in SQL non è fattibile direttamente qua devo fare un distinct e poi un count e domanda quindi max ritorna un optional sì l'abbiamo visto qua lo vediamo qua find first max find any eccetera restituiscono tutti un optional io ovviamente non posso andare a mettere ve lo riscrivo qua sotto giusto per vedere che in realtà sintatticamente non funziona non posso fare string pl uguale stream of perché ovviamente il compilatore mi dice non riesco a convertire un optional in una string per ottenere un optional cioè per ottenere una stringa dall'optional di string devo utilizzare quei due metodi utilizzo o il get oppure il metodo or else che mi va a dare un valore di default nel caso in cui l'optional sia vuoto l'optional ne avevamo parlato parlando delle collezioni serve proprio a garantire un valore di ritorno sempre presente uniforme evitando i null perché poi se io mi ritrovo un null rischio di avere un null pointer exception avendo un optional io sono obbligato a fare queste operazioni o chiamare l'or else oppure fare un test se è presente e poi fare un get ok è un po' complicato e difficile però tutto sommato funziona non è l'unica soluzione possibile però è la soluzione che è stata scelta per questo tipo di librerie in java c'è chi preferisce restituire un null e quindi garantire e poi obbligare chi ottiene il valore a fare un test piuttosto di utilizzare un optional ci sono altri linguaggi ad esempio Kotlin per dire che permettono di fare un test sul punto e quindi andare a fare quelli che sono delle operazioni di safe the reference ok direi che è stata una diciamo lezione abbastanza intensa perché ci sono un sacco di concetti nuovi io mi fermerei qui vi pubblico ovviamente gli esempi che abbiamo visto quindi ve li potete rivedere con calma vi ho pubblicato ieri la lezione quindi se non l'avete vista vedetela o magari rivedetela alla luce di quello che abbiamo visto oggi vi pubblico un'altra lezione sempre sugli stream che va a presentarvi dei concetti un po' più avanzati in particolare quelli che sono i collettori i particolari collettori predefiniti che sono decisamente più potenti di quanto abbiamo visto ora e che sono quelli che sono poi più utilizzati per fare delle operazioni un po' più elaborate mercoledì poi vedremo un po' più nel dettaglio come potremo utilizzare i collettori per fare delle operazioni delle elaborazioni dati un po' più sofisticate questi concetti non vi servono per gli esercizi che state facendo anche se potenzialmente questi costrutti possono essere utilizzati per andare a fare iterazioni o altre operazioni in maniera molto più compatta quindi ovviamente potete utilizzarli nella versione estesa del laboratorio sulla dieta se vi risultano comodi da utilizzare di un po' più